Io riprendendo, tanto mi presento, sono Pier, riprendendo il discorso dell'indifferenza che ha fatto Jacopo, il mio compagno, diciamo che dirò la verità, io ci ritrovo un pochino perché diciamo che tutto quello che ha detto il professore io non lo sapevo e diciamo che torno a casa dopo questa esperienza con gli occhi aperti, diciamola così perché mi ha detto tante cose che non sapevo e per esempio mi ci sono ritrovato quando ha parlato della giornata della memoria, che per me è la giornata della memoria, mi sono ritrovato in quell'immaginetta dell'immagine che ha proiettato, mi ci sono ritrovato benissimo, sono io e questa cosa mi ha un po' scombussolato, un po' sorpreso.